E' un auditorium San Fedele gremito quello che accoglie sia la visione del film di Matteo Garrone, io capitano, sia il regista che, a conclusione della proiezione, dialoga con l'Arcivescovo sull'intensa e drammatica pellicola, di cui stiamo vedendo delle brevi immagini dal trailer ufficiale. Promossa da molte realtà, associazioni di accoglienza e volontariato, la serata si concentra ovviamente sul tema del viaggio, quello terribile dei migranti dall'Africa verso l'Europa, come narra il film, attraverso la vicenda dei due giovani protagonisti. E' un viaggio dentro il cuore dell'uomo e quindi questo viaggio così drammatico, così pieno di crudeltà e di solidarietà, ecco mi dice, ma com'è fatto il cuore dell'uomo? Le premesse del film nascono proprio dal desiderio di dare voce a chi di solito voce non ha, cioè dall'ascolto, anche dal desiderio di dare finalmente forma visiva a tutta quella parte di viaggio che di solito non si vede. Monsignor Davide Milani, prevosto di Lecco e presidente dell'ente dello spettacolo, che modera la serata, chiede quale sia la responsabilità della Chiesa e della comunicazione sulle tragedie appunto della migrazione che si vanno consumando. Su questo tema a me sembra che c'è una grave responsabilità sia della comunicazione, sia della politica europea, sia della riflessione filosofica e anche la Chiesa cosa dice di queste migrazioni? La Chiesa anzitutto cancella la parola stranieri, la parola extracomunitari, sono parole che non sono cristiane, non si possono pronunciare in Chiesa, perché in Chiesa nessuno è straniero. Quindi il concetto... Ma questo però è un principio da cui partire, cioè non è uno slogan, è un punto su cui riflettere. E quello come si dice la globalizzazione ha invaso anche l'Africa e ha fatto partorire dei sogni improbabili, forse ha bisogno di una conversione, ha una globalizzazione che il Papa chiama fratelli tutti, ecco nessuno è straniero perché la vocazione dell'umanità è di essere una fraternità. Il ringraziamento vale centinaia di presenti alla proiezione e alle realtà che si occupano d'accoglienza. I protagonisti di quel cambiamento culturale che l'arcivescovo torna ad auspicare. Noi siamo capaci, voi lo testimoniate, siamo capaci di inventare un'Italia diversa, un'Europa diversa e lo facciamo, cioè non stiamo qui a fare dei comizi, ritengo che su questo tema c'è bisogno di una rivoluzione culturale. Bello quindi che si sia deciso di proiettare la pellicola nelle scuole. Secondo me sarà molto interessante anche vedere e far circolare questo film non solo nelle scuole d'Europa, ma anche nelle scuole in Africa e soprattutto nei villaggi in Africa, perché adesso stiamo cercando di portare avanti un progetto. Infine una breve riflessione di Monsignor Delpini sul tema dei nostri ragazzi. Il compito che abbiamo come adulti, il compito che hanno gli educatori, i preti, i catechisti, quelli che sanno parlare ai ragazzi d'oggi e sanno insinuare in loro l'idea che la vita meriti di essere vissuta e che diventare adulti non è un pericolo da cui difendersi, ma è una vocazione da realizzare.